gentili telespettatori buona giornata così mario draghi il presidente del consiglio risponde a salvini e letta sapete che salvini ogni giorno deve dire qualcosa su letta ogni giorno deve dire qualcosa su salvini e salvini ogni giorno deve rispondere a letta che si è dato questo compito di dire sempre qualcosa e così il governo lavora adesso con l'obiettivo di mettere in sicurezza le riforme entro febbraio questa è la risposta di draghi entro febbraio si faranno le riforme cioè entro la data dell'elezione del capo dello stato erano questi i principali obiettivi vaccinazione recovery plan e riforme vaccinazione fatta recovery plan inviato bisogna poi verificare la spesa dei soldi mancano le riforme perché se non ci sono le riforme viene bloccato l'invio dei soldi del recovery plan e quindi il governo entro febbraio vuole fare le riforme dice perché la semina come la definisce un ministro sia completata prima che inizi la corsa per il colle è piuttosto un modo per non arrivare impreparati proprio a quel bivio della scelta del capo dello stato ma che non dovrebbe influire sulla durata della legislatura semmai quasi tutti scommettono sulla sua scadenza naturale molti partiti non vogliono andare al voto perché quello comporterebbe per molti la fine del posto di lavoro taglio dei parlamentari del 30 per cento molti partiti sono scesi nei sondaggi molti i cinque stelle hanno la clausola del secondo mandato insomma molti partiti avrebbero una riduzione del personale quindi molti a casa disoccupati fine della pacchia meloni e salvini avanzano la candidatura di mario draghi immaginando così di aprirsi un varco verso le elezioni anticipate intanto proprio per evitare le urne il pd frena davanti a un simile scenario a meno che spiega un rappresentante del governo non ci sia un accordo preventivo tra le forze di maggioranza per proseguire fino al 2023 un'ipotesi che sembra decisamente lontana e complicata oggi il premier per adesso non dice nulla sapendo che se si immergesse nelle trattative con i partiti sul voto al collo e finirebbe per compromettere il suo percorso al governo ma un'indiscrezione che abbiamo visto qualche giorno fa diceva che draghi parlando con i suoi fedelissimi gli avrebbe detto beh tanto qui a dicembre ce ne andiamo ecco da qui a dicembre ce ne andiamo come dire adesso poi arriva l'elezione del capo dello stato e questi vogliono andare alle elezioni quindi il nostro compito dura fino a natale per modo di dire l'elezione del capo dello stato a febbraio e questo vorrebbe dire che se draghi scende a patto coi partiti comincerebbe la solita storia di un logorante mediazione senza una soluzione così draghi decide come sempre fatto adesso senza tener conto dei partiti d'altronde numeri alla mano in questo parlamento non pare esserci spazio per candidature che impone qualcuno e nel caso di un accordo trasversale le soluzioni sembrano ridursi per ora a mattarella o draghi la riconferma di mattarella come spingerebbero i partiti del che vogliono arrivare a fine legislatura sarebbe quella di e sarebbe il fatto di far riconfermare mattarella per un altro anno poi mattarella dalle dimissioni draghi sale al colle questa sarebbe la il sogno di chi non vuole perdere il posto di lavoro dall'altra parte chi vuole le elezioni dice no draghi al quirinale si libera il posto e si corre alle elezioni mentre in una condizione di normalità il semestre bianco che si avvicina indicherebbero inciderebbero sulla tenuta del governo sulla capacità d'azione ma quella attuale non è una condizione di normale governo draghi al quirinale è proprio proprio lì perché la politica non era in grado di andare avanti da sola questo non è da dimenticarlo insomma le dichiarazioni continue tra letta salvini nella maggioranza costringono gli elettori ad assistere a un vecchio spettacolo ma questo perché c'è perché letta si è dato questo compito quando è arrivata la guida del pd si è dato questa nuova professione l'antagonista l'anti salvini come diciamo sempre costruisce un partito contro qualcuno non su delle basi ideologiche o su delle cose che vuole realizzare no costruisce il partito contro qualcuno quindi il partito costruito da letta è impegnato a ogni giorno criticare quello che dice salvini cioè il pd non dice ma critica gli altri probabilmente letta ha capito che questo vogliono i suoi elettori forse poi ci sono le amministrative da cui dipendono le sorti dei leader di partito ma nessuno avrebbe la forza di scaricare sul governo l'effetto dello scontro ammesso che veramente abbia l'intenzione di farlo né perché neanche né salvini né letta potrebbero staccare la famosa spina a draghi il leader del tpd per ragioni sue e anche in ogni caso il suo partito non glielo consentirebbe di staccare la spina mentre salvini staccare la spina farebbe il gioco di letta della sinistra provocherebbe la reazione del suo elettorato al nord quindi salvini entrando nel governo ha perso una parte dell'elettorato uscendo magari andrebbe a perdere quella parte dell'elettorato che era concorde nell'entrare al governo e quelli che sono già andati via perché lui entrato al governo non ritornerebbero quindi l'uscita della lega altro che ritorno degli elettori potrebbe perdere ulteriori elettori un entrare e uscire quindi nessuno di tu e due è interessato realmente ad uscire dal governo salvini non ci pensa proprio a rompere con draghi ma proprio questo duello salvini letta sembra montato ad arte per polarizzare l'elettorato ecco montato ad arte da enrico letta lui si scontra con salvini per accattivare l'elettorato di sinistra almeno questo è quello che lui crede salvini deve rispondere non è che può star zitto alle critiche giornaliere di letta molto più forti di quelle che faceva zingaretti io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti